Devi uscire dallo stato in cui sai, Bruce. Jasmine è scappato da Stonegate e sai bene che troverai il modo di arrivare a Gordon. Bruce, sto parlando con te, mi hai sentito? D'accordo, allora andrò io a cercarlo. Tu mi hai insegnato tutto sulla lotta al crimine, Bruce, e la lezione più importante diceva di non arrendersi mai. No, Robin, aspetta a me farlo. Attenzione a tutte le auto, situazione sospetta all'angolo tra la Adams e O'Neill. Qui è Bullock, vado subito. Ricevuto, detective, stia attento. Devo andare a bere un po' di caffè. Torno subito, papà. Che è successo? Addio, Gordon, è suonata la faura. Don' Amesta, lei... Don' Ami, whoo? Giulia trainene. Mil한 Non! 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 Fermo, Jimmy! Barbara! Oh, papà! Ti sei svegliato! La retata è andata bene? Certo, ma devi riposare adesso. Dobbiamo lottare, senza fermarci. È così che cerco di vivere. Se fossi stato più giovane, avrei cercato di assomigliarti. Ho sempre desiderato essere un eroe. Ma tu sei un eroe, Jim. Vedo che sei tornato ai tuoi vecchi trucchi. Che ne dici di rendere quella valigia al suo proprietario? Ehi, amico, sono io il proprietario. In verità speravo proprio di incontrarti. Ero già stato nel genere di posto in cui mi hai mandato. avevo ascoltato inutilmente le prediche. Però stavolta mi hanno convinto. Forse ero pronto ad ascoltare. E così adesso sto tornando a casa e credo di doverlo a te. Tu mi hai salvato la vita. Ah, chissà quanti te lo diranno. Scusa, rischio di perdere il pullman. Ci vediamo e... Grazie. Ciao. 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 Svangizade. Svangizade. Grazie a tutti.